Finché abbiamo la musica alta non ci disturbano più di tanto, però prima stavo passando e comunque danno un po' fastidio, però vabbè non ci possiamo fare niente. Sono cominciati i lavori di sistemazione del porfido in centro che andranno avanti per 90 giorni nel tratto tra la loggia dei cavalieri e piazza e ponte San Leonardo. Tra il forte rumore e i disagi i commercianti sono rassegnati nonostante temino che si protragano a lungo e che vadano ad impattare in negativo le vendite in un periodo di saldi estivi. Lavoriamo un po' pochetto ecco. In questo momento non abbiamo ancora un'idea imprecisa, con le esperienze passate un minimo disagio sicuramente lo creeranno. Che dobbiamo sopportarlo finché non saranno finiti i lavori. Stanno creando disagi nelle vendite o con clientela? Indubbiamente c'è un disagio. Il cantiere è stato organizzato in tre sezioni e l'accesso per questa prima fase è garantito al transito pedonale fino a San Leonardo. Tra i residenti c'è chi pensa che i lavori di sistemazione del porfido non serviranno a nulla, in quanto il manto stradale verrà nuovamente rovinato dal passaggio degli autobus. Lavori che vanno avanti per 90 giorni, disagi? Tantissimi, come sempre. A parte il rumore immagino di sì, creerà un po' di disagio, però vediamo. Lei sta qua tutto il giorno o si dà il cambio con qualche collega? No, io sono qua tutto il giorno. Quindi tutto il giorno sente questo rumore? E com'è lavorare questo rumore? Mi adatto. Non sono proprio così contento, però è una cosa che bisogna fare, capisco. È un gran problema, è un disturbo enorme, perché tutti questi autobus che non passano qui dal centro, soprattutto l'uno che va all'ospedale, il tre che va alla stazione, il dieci che va alla stazione, per un altro sono problemi. Grazie.